Eravamo nel retro, è entrato minacciando con un cutter la dottoressa e la dottoressa è venuta dietro dicendo che c'era questa persona che tentava di rapinare con un cutter e siamo venuti in farmacia io e Enrico e quando ci ha visto l'abbiamo intimato di uscire ed è scappato via è scappato via subito, ha chiesto la cassa, i soldi in cassa, aveva un cutter in mano e puntava il cutter dopo vedendo due uomini che gli siamo andati incontro probabilmente si è spaventato magro con un giubbino della Colmar, aveva la sciappa sul viso, i jeans e il cutter col cappuccio e il cutter magro, 1,80 sarà stato molto magro, comunque ha desistito subito, probabilmente è italiano